Baci di dama senza cottura Taglio il cioccolato bianco e lo metto in una ciotola Taglio anche il cioccolato fondente Ed eccoli qua, fusi tutte e due Poi bagno gli amaretti nel caffè e li posiziono nel vassoio Un tuffo nel cioccolato bianco Li cospargo per bene E poi via nel cocorapè Li rotolo E li metto in un vassoio ad asciugare Ora metto il cioccolato fuso in un amaretto E poi formo con l'altro il primo bacio di dama Io non resisto, lo apro subito e lo assaggio È troppo troppo buono Dovete assolutamente assaggiarlo È una vera bontà Se volete vedere la ricetta completa Venite sul mio canale YouTube Fate un mi piace Iscrivetevi Iscrivetevi Grazie a tutti Grazie a tutti